Forse l'evento che rappresenta al meglio la proiezione della nostra provincia verso il 2016 ed oltre è l'apertura delle sortite del Mura di Lucca, che saranno tre nella prossima primavera. Lunghi tunnel, ampie sale, segrete che una volta collegavano la città verso l'esterno, un grande patrimonio storico, tutto restaurato ed aperto al pubblico. Questo mentre nel corso del mese di gennaio, presumibilmente, la Giunta avvierà al Consiglio Comunale per una ampia discussione il piano strutturale della città, coordinato dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini, un atto atteso da 20 anni. E il 2016 sarà anche l'anno in cui termineranno gli imponenti lavori di restauro delle Mura. Insomma, Lucca sta cambiando profondamente. 150 anni fa cominciava l'uscita di molte famiglie lucchesi da Lucca per continuare fuori le proprie attività. E questo è testimoniato dalle splendide ville Liberty che si possono vedere lungo la circonvallazione. Lucca si avviava verso la modernità. E oggi, proprio l'apertura delle sortite manifesta in qualche modo una grossa carica simbolica. Dice che è finito il tempo del Lucca fora e Lucca dentro, come si diceva una volta, che ormai i percorsi sono nei due sensi. Lucca da città murata diventa città aperta, conservando però al centro il suo scrigno. Auguri a tutti. Grazie a tutti.